Lasciate che vi racconti una storia che rappresenta una perfetta analogia di Conligus, la storia che ci ha ispirati, di un uomo chiamato Ferruccio Lamborghini che portò la sua Ferrari ad Enzo Ferrari in persona. Non era soddisfatto e aveva delle idee per migliorarla, ma fu insultato e allontanato. Quello sarebbe stato il giorno in cui Ferruccio avrebbe detto, ho deciso a questo punto di realizzare l'automobile perfetta. Nacque la Lamborghini, che non solo avrebbe scosso l'industria automobilistica, ma l'avrebbe reinventata. Come Lamborghini, noi di Conligus vogliamo portare la rete al prossimo livello. Grazie a tutti. Mr. Hamilton? Allora, come sta andando il mio business? Mr. Hamilton, ti piace regalare le cose? Sì. Ti piacciono le cose gratuite? Certo. Ti piacciono i soldi? Ma certo. Allora, ascolta. Darai e regalerai soldi virtuali a chiunque, chiunque famiglia, amici, per vincere un'asta ibrida. La chiamiamo Power Sampling. I clienti che visiteranno l'asta oraria potranno puntare gratuitamente sui prodotti e quando utilizzeranno i bit virtuali che tu hai dato via, che hai regalato, tu guadagnerai soldi. Chi riceve i virtual coins può diventare un membro di Colligans e iniziare il proprio business. E tu guadagnerai una percentuale e inizieranno il Power Sampling a loro volta, dando via i loro soldi virtuali e guadagnandoci. Tutto chiaro? Quindi, Mr. Hamilton, fatti avanti. Fatti avanti. Quindi iniziamo a fare soldi. E' una plataforma revolucionaria che offrece l'anigus. Io vi ringrazio l'anigus due settembre dopo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.